Io volevo chiedere un commento su quello che ci ha detto ieri di Turbe su di lei Ha detto che Mandorlini con me testualmente si incazzava molto però mi ha dato tantissimo e mi ha reso il giocatore che sono Per lei cosa vuol dire sentirsi tributare dei metri importanti da un giocatore così? Allora ringrazio, sono contento E' stato reciproco, io credo di avergli dato però avevo anche ricevuto molto da lui Non posso più farmi piacere questa cosa qui che mi passava E' un po' come un bambino, come un figlio Anche se, quello che dicevo un po' anche per l'altro Di là delle qualità, ragazza molto intelligente Che si è capito in fretta la lingua, si è adeguato a tante situazioni Quindi ci ha messo molto del suo Quello che posso avergli dato io Si è stato molto disponibile Quindi farà gente grande All'un di là delle qualità tecniche E poi un'ultima per me Taxidis Ieri ho rivisto una partita, secondo me La maggior parte dei palloni sono passati dai suoi piedi A che percentuale è questo ragazzo adesso? Sembra crescere lì a partire dal partito? Allora sì, si fa sempre in forma, in pertenzione al giocatore Bravo, il giocatore è importante, determinante E poi può sbagliare Abbiamo visto che sbaglia anche un giocatore ancora più importante E con un'esperienza Invece a Tassidi ci sono tanti altri Sì, è sempre lì, ma ha sbagliato qua Perché ci ha passati Non può sbagliare Se uno gioca, può anche sbagliare Io sono contento, felice che lui sia qua Sarebbe dovuto arrivare prima È arrivato adesso E indipendentemente dagli errori Che possa commettere Tanti o pochi per noi aggiornatori È importante e imprescindibile Grazie a tutti